Mi chiamo Iaria Bonuccelli, sono una cronista da 27 anni, ahimè, e sono vicepresidente dell'Unione Nazionale dei Cronisti Italiani che con il Parco ha iniziato anche una collaborazione che va al di là dell'informazione tecnica, delle formazioni di settore specifica. Proprio quest'anno, nell'organizzazione dell'ultima edizione del Premio Nazionale Cronisti, del Premio Nazionale Piero Passetti, che è l'unico premio giornalistico in Italia che gode non solo dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica, che è stato attribuito anche ad altri, ma di premi conferiti da tutte le istituzioni previste dalla nostra Costituzione. Quindi c'è una collaborazione diversa che mi porta a fare una riflessione su questo piano. A mio avviso la comunicazione del Parco è una comunicazione complessa, che deve essere affrontata su piani diversi, perché intanto la comunicazione più di settore, di cui stava parlando anche il collega della parte web, è una comunicazione che è un pochino istituzionale ancora. Ed è una funzione, questa che è assolta molto bene, ma che non porta ancora il Parco sul mercato. Allora, facciamo un po' di sintesi molto semplicistica, poi se qualcuno è interessato possiamo anche approfondire ovviamente i temi, ma non mi voglio dilungare. Secondo me ci sono almeno due o tre livelli di comunicazione. Il primo livello di comunicazione è quello istituzionale, nel quale anche il Parco di Milialino San Rossore è molto avanti. Una comunicazione istituzionale che può passare attraverso il web, attraverso la carta stampata, attraverso la televisione, le radio, eccetera, eccetera. Esiste poi un livello di comunicazione che a mio avviso non è ancora molto ben sviluppato, che è quello invece molto al confine con il marketing, che riguarda la capacità di attrarre, di trasformare il parco da ente di tutela di un patrimonio a, non vorrei dirla in maniera così volgare, ma una sorta di agenzia di viaggio, di promozione di APT del territorio. Cioè il parco deve diventare un mezzo di attrazione, quindi deve diventare anche un motore di economia, sia dal punto di vista del turismo e quindi una capacità di dire venite al parco di Milialino San Rossore, perché qui potete andare a cavallo, qui potete prendere il sole, qui potete vedere il tarabuso, non lo so, ma anche perché quando avete finito di fare queste cose, la sera potete andare a Torre del Lago a vedere il Festival Puccini, potete prendere la macchina e andare a vedere una delle più belle città medievali del mondo, che è Lucca, potete andare, eccetera, eccetera. Ecco, questa parte, secondo me, è molto poco sviluppata, ed è molto poco sviluppata al punto che se uno viene sul sito del parco di Milialino San Rossore, ad esempio, non riesce a capire dove può dormire, qual è la città più vicina a dove dormire, no? Perché il parco di Milialino San Rossore e Massaciuccoli, a noi ci garba tanto, ma se io vengo da Caltanisetta, che Massaciuccoli è una località di Massarosa o che, vuol dire, è un lago che si affaccia su Torre del Lago e che mi consente anche di vedere la casa natale di Giacomo Puccini, non c'è scritto. E questo è un grave deficit. Ora non voglio fare la maestrina, ma sto semplicemente parlando da una che viaggia molto e che quindi, quando va a vedere una cosa, vuole anche sapere dove si può sistemare, eccetera. Quindi, questo livello di comunicazione, che non è più istituzionale in senso puro, ma che è molto vicino al marketing, come dicevo prima, è molto poco sviluppato. Come è molto poco sviluppato, ha anche un altro tipo di comunicazione, che anche quello potrebbe fare economia, che è di un brand, Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, ho Paglia Lunga che mi guarda malissimo, che è legato a tutta la produzione dei prodotti del parco. Ci sono, vuol dire, io non amo il miele, però mi ricordo dai miei trascorsi via Reggini una grande campagna che c'è stata fatta a un certo punto sul miele di camuciolo, che è un prodotto rarissimo da trovare, perché il camuciolo non si trova da tutte le parti. Allora, perché non deve esistere un brand di questo tipo che identifica immediatamente l'unicità di alcuni prodotti con il Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli? No? Voglio dire, noi, esempio, siamo abituati ai pinoli, perché le nostre pinete, eccetera, eccetera, ma uno che sta a Trebbiano sul Naviglio, secondo me i pinoli non li ha mai mangiati, o li trova, o pensa che nascano un bustina, e invece gli dobbiamo spiegare che invece, che no, che quello che mangia qui o che nasce qui è diverso da quello. Ora, io sto veramente banalizzando, anche perché non è il mio mestiere, ovviamente, quello né di fare l'economista, né di fare l'agenzia di viaggi, né di fare il marketing, però noto che c'è questa assenza, e lo noto da una che appunto è fruitrice anche di queste cose. Faccio un esempio, poi magari mi sbaglio e correggetemi, una cosa sciocca, ma non lo è. Il turismo naturalistico, chiamiamolo così, che è un turismo che, ad esempio, nel nord Europa attira veramente milioni di persone, e che qui troverebbe una culla straordinaria, grazie anche alle infrastrutture che ci sono, a cominciare dall'aeroporto di Pisa, che è uno degli scali più importanti d'Europa, non d'Italia, bene, io non trovo un riferimento, ad esempio, alla pista ciclabile che stanno facendo tra Comune di Lucca, Comune di Provincia di Pisa, Provincia di Lucca, su Giacomo Puccini. Insisto particolarmente su una patita, si sarà capito, di Lirica e di Giacomo Puccini, però voglio dire, Giacomo Puccini è il brand, è uno dei brand più, è uno dei marchi più importanti che l'Italia nel mondo, perché se voi andate all'isola di Pasqua e fischiettate il Nessun Dorma, magari lo chiameranno Vincerò, ma sanno che cos'è, e quasi nessuno magari sa che è di queste parti. Allora, ci sono 100 km di pista ciclabile che passano lungo il lago, che passano dalla Bonifica, è vero che magari non è tutto immediatamente all'interno del parco di Massacucco di San Rossore, ma è sicuramente un modo per convincere uno, una volta a farsi una passeggiata di 30 km, quel tipo lì, magari il giorno dopo a venire dentro il parco di Migliarino. Quindi secondo me questo è un livello di comunicazione che è molto poco sviluppato, non sono io la persona ovviamente in grado di fare un piano di comunicazione di questo tipo, perché appunto è molto al confine col marketing. L'ultimo piano che secondo me è molto poco sviluppato, e qui parlo invece credo con maggiore cognizione di causa, è quello del rapporto fra l'ente parco-istituzione e la stampa intesa in senso lato, i mezzi di comunicazione del territorio. Facendo una rassegna stampa, diciamo, trasversale negli anni, l'80%, forse anche il 90%, le notizie che riguardano il parco di Migliarino San Rossore sono notizie negative, cioè di un parco nemico di, di un parco che non fa suonare la musica ai locali Torre del Lago, del parco che ti impedisce di ampliare la casa, del parco che... Ecco, questa immagine è drammatica. È drammatica. Al tempo stesso, è drammatica perché intanto spesso non si spiega bene la posizione del parco. Intanto perché a volte ci sono anche delle posizioni in retroguardia, cioè il fatto della tutela non deve essere soltanto, come dire, proibizionismo, no? Deve essere uno strumento che consente di tutelare ma anche di fruire. Ora, anche qui, scusatemi l'approssimazione, ovviamente io non sono un'esperta di leggere il parco, il dottor Moschini è sicuramente molto più bravo di me in questo, però in questo caso lo vivo da cronista e anche da lettore. Cioè la sensazione quando uno parla del parco è oddio, cosa vieta ora, no? E questo è sbagliato, perché il parco non vieta, protegge e si deve dare questa sensazione che invece non c'è nell'immaginario collettivo. La gente è sicuramente banale, no? Perché a noi ci dicono sempre ma io ho letto il titolo e l'articolo non l'ho letto. Benissimo, dobbiamo anche considerare che l'approccio è di questo tipo. È un approccio superficiale, quindi evidentemente ci vuole una comunicazione più penetrante e che in 30 secondi che uno sfoglia un giornale o che si posa gli occhi su una notizia web abbia una sensazione che è più positiva. Devo dire da questo punto di vista che ad esempio è stato fatto uno sforzo anche perché costretti dalla legge evidentemente dal primo di gennaio ci sono tutte le delibere, tutti gli atti che sono stati approvati dal parco sono anche online, no? Per cui è anche colpa di noi giornalisti che spesso siamo pigri, no? E aspettiamo la velina, aspettiamo il comunicato stampa e quindi non ci andiamo a cercare la notizia. Però io che invece sono un po' più antipatichina queste cose le ho notate e capisco anche che diventano una grande fonte di informazione per la gente, anche per il giornale. Quindi ci vuole uno sforzo anche da parte di chi fa la cronaca. E deve essere accompagnato però secondo me anche da uno sforzo del parco di promuoversi diversamente, di vendersi diversamente.